Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. L'Italia è protetta da un campo di alta pressione che assicura il perdurare del bel tempo, tuttavia da domani la Liguria sarà interessata da correnti umide di matrice africana che porteranno più nubi, anche piogge e rovesci sparsi. Il dettaglio oggi venerdì 7 ottobre in prevalenza sereno sulle coste, mentre sui versanti padani avremo foschie anche dense la sera dovute a banchi di nubi basse, venti in regime di brezza o deboli da nord, localmente calmi, mare poco mosso quasi calmo, temperature massime stazionario localmente in aumento, lungo la costa tra 23 e 27 gradi nelle zone interne tra 21 e 26 gradi. Domani sabato 8 ottobre al mattino soleggiato con foschie dense in dissolvimento sui versanti padani, nubi in aumento lungo le coste, debole piogge nel pomeriggio a partire da Ponente, venti in regime di brezza o deboli in prevalenza meridionali, mare poco mosso calmo, temperature stazionario in diminuzione, minime lungo la costa tra 15 e 19 gradi nelle zone interne tra 10 e 14 gradi, massime lungo la costa tra 20 e 25 gradi nelle zone interne tra 20 e 23 gradi. Dopodomani domenica 9 ottobre, domenica grigia su gran parte della regione, nubi accompagnate da piogge sparse anche a carattere di rovescio di intensità al più moderata, venti da settentrione deboli o moderati, mare stirato sotto costa localmente mosso sui capi di Ponente, temperature minime stazionarie in aumento lungo la costa tra 15 e 19 gradi nelle zone interne tra 10 e 14 gradi, massime in calo lungo la costa tra 19 e 24 gradi nelle zone interne tra 15 e 20 gradi. È tutto, seguite i aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal, sul profilo instagram dell'agenzia ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. Risentirci!